Sindaco a Roma si stanno vivendo ore molto complicate dalla rinuncia all'incarico dell'incarico da parte di Conte. Oggi il Presidente Mattarella ha dato l'incarico a Cottarelli che ha già riferito quali saranno i tempi e qual è il suo mandato. Lei come analizza questa situazione? La situazione è molto preoccupante. Credo che l'Italia non ha mai vissuto un periodo così difficile, con uno scontro istituzionale pesantissimo, dove in qualche modo, anche se con sfumature e modalità diverse, al caldo di quello che è accaduto ieri sera, i due firmatari del contratto hanno manifestato la volontà di mettere sotto accusa il Presidente della Repubblica. Di fronte all'incapacità delle medesime forze politiche, come di altre, di trovare un governo dopo quasi tre mesi, dopo aver detto che il problema non erano i nomi, ma i contenuti, i programmi e le idee, si fa assaltare tutto sul nome. Poi possiamo discutere all'infinito. Io sono uno di quelli che avrei dato la possibilità a questa alleanza così a destra mai avuta nel Paese di governare, ma chiaramente io non faccio il Presidente della Repubblica, lei me lo sta chiedendo come valutazione da cittadino italiano e da sindaco di Napoli. Io avrei fatto partire questo governo, ma non mi pare dalle dichiarazioni che il Presidente della Repubblica mi ha messo veti. Il Presidente della Repubblica, anzi ha rilanciato se vogliamo in qualche modo il contratto, tra virgolette, rilanciato, il contratto Salvini-Di Maio perché ha detto metti, ha detto alla coalizione, una persona di alta responsabilità politica. E quale ruolo più importante, se vuoi fare la rivoluzione, è quello del Ministero dell'Economia? Si è sempre detto, leggevo in questi giorni, più politica e meno tecnici. Il contratto salta su un Presidente del Consiglio Tecnico e sul Ministro Tecnico. Adesso quello che mi rammarica e mi fa specie è che si sta facendo passare Savona come un bolscevico. Vorrei ricordare a questi signori che non era la rivoluzione quella che stava avvenendo. Savona va in perfetta continuità con le politiche liberiste, così come con Salvini si sarebbe aperta la stagione di più grande repressione del dissenso e delle libertà civili del nostro Paese. Quindi evidentemente il quadro è molto più grave e molto più fosco di quello che si può immaginare. Ci sarebbero anche tante cose da dire, ma ne dico una sola, che mentre questi dimostrano tutta la loro inaffidabilità e incapacità, c'è un Paese che soffre, c'è un Paese che lavora, c'è un Paese che vorrebbe sognare e non vivere nell'odio, nella paura e nel rancore. Ci sono comunità che lottano come quella napoletana, che noi avremmo bisogno e abbiamo bisogno ogni giorno di interloquire con un Governo o con un Parlamento e ci dicono ma che parliamo a fare? Il Parlamento è fermo. Il Parlamento è fermo. Quindi non si fa, non si porta avanti, nonostante non ci sia il Governo potrebbe funzionare il Parlamento. Il Parlamento è fermo, non ci sono le commissioni parlamentari, non c'è un Governo con cui puoi andare a discutere, nemmeno nell'ordinaria amministrazione, ma come facciamo ad andare avanti noi? La preoccupazione è che questo scenario non è che domani si risolve, questo scenario di assenza di una maggioranza politica, di assenza di una via d'uscita, certe volte per capricci, certe volte per lotte di potere, certe volte per bramosie, certe volte come mi par di capire si mettono avanti interessi particolari rispetto all'interesse nazionale del Paese, tutto questo non può che preoccupare me come sindaco, come vicepresidente del Lanci, stamattina ho sentito anche De Caro, ci vedremo nei prossimi giorni, c'è molta preoccupazione tra i sindaci, moltissima preoccupazione, i sindaci rappresentano le preoccupazioni dei cittadini, io non so che soluzione si troverà, non so dove andremo a finire, ma gli errori si accumulano ad errori, è uno dei più gravi e non a caso io ho firmato anche per il ricorso ad adiuvandum per la legge Rosatellum che è incostituzionale, è stata quella legge elettorale, mi sembra che il giudizio, la valutazione complessiva e mi sento di fare che ci troviamo di fronte a un'inadeguatezza spaventosa e all'incapacità, nonostante una maggioranza politica non sono riusciti a fare un governo e adesso fare la lotta Di Maio Salvini contro Mattarella, tu stai con Di Maio Salvini o stai con Mattarella, io sinceramente in questo momento mi sento di dire sto col mio popolo e noi ogni giorno ci mettiamo la faccia e invece di fare chiacchiere lavoriamo, forse se il paese ripartisse proprio dai bisogni, dai diritti e da chi lavora non staremmo in questa situazione. Lei venerdì all'assemblea di Dema ha detto da oggi noi ci saremo, anche se ci dovesse andare a votare fra tre mesi Dema ci sarà, è uno scenario plausibile perché Cottarelli ha detto se non ho la fiducia si vota dopo agosto. è uno scenario possibile che noi ci saremo, ovviamente non è una decisione che posso prendere io, anzi io sono quello in questo momento forse meno adatta per prenderla per tutte le responsabilità che ho, però di fronte a un paese che sta per cadere nel baratro, perché la situazione è davvero preoccupante, una riflessione non la faremo, la faremo perché credo che probabilmente si dovrà ipotizzare qualcosa che l'Italia non ha mai ipotizzato finora, cioè di fronte a scenari così inquietanti si debba mettere in campo un'alternativa democratica davvero forte che si argine di fronte ai peggiori populismi, alle peggiori incapacità, alle peggiori bramosie di potere. Qua non si scherza perché per come è combinata l'Italia, per come sono combinati i comuni e per come ci sono le disuguaglianze del nostro paese, se sbagli qualche mossa puoi cadere veramente nel baratro e non ci si riprende più, perciò adesso è il momento che ognuno fa le delle riflessioni, chi ha dei carichi di responsabilità a tutti i livelli nel paese, c'è un interesse superiore che per me è il bene comune e nel bene comune ci sono le persone del nostro paese, quindi su questo ognuno penso con umiltà, ognuno quello che può fare farà una riflessione e se del caso si metterà a disposizione per porre un'argine rispetto a chi si è dimostrato in 90 giorni totalmente incapace di costruire un futuro e devo dire anche facendo delle alleanze che andavano in netta contrapposizione rispetto al mandato elettorale, il contratto Lega 5 Stelle mi sembra in profonde antitesi col voto elettorale perché chi ha votato Lega l'ha votato nell'ambito di una coalizione di centrodestra, chi ha votato 5 Stelle l'ha votato sentendo le parole di Divanio, di Battista e Fico che dicevano mai con la Lega, quindi ci troviamo di fronte anche a un tema di credibilità, quindi vai a affrontare, poi in chiudo mi preoccupa molto una campagna elettorale in piena estate, cioè qua una campagna elettorale non finisce più, qui noi faremo un'altra campagna elettorale, poi si comincerà la campagna elettorale per gli europei, poi ci saranno le regionali, è un paese che non viene governato, insomma io con questo clima di odio, rancore e violenza istituzionale e politica non so che state l'Italia si sta prefigurando davanti a sé, quindi fronte a questo sentimento respingente io sono felicissimo di fare il sindaco di Napoli, una città piena di problemi, piena di sofferenze finanziarie, ma una città con sorriso che ha conquistato Vette con la credibilità del suo popolo e con la passione e la benegazione di chi è stato eletto per governare e che non ha tradito il popolo napoletano. Sindaco, al di là della partecipazione o meno di Deyma, eventualmente nelle elezioni anticipate, ma lei le giudicherebbe, non è un fatto negativo, un fatto per il paese l'elezione anticipata? Io penso che in questo momento se non c'è una maggioranza non ci sta altra alternativa che votare, poi i tempi di scegliere il Presidente della Repubblica, ma è evidente che se non viene trovata nei prossimi giorni una maggioranza politica seppur fragile da poter votare dopo la legge di bilancio, quindi a febbraio-marzo non può che votarsi a fine settembre presumibilmente, quindi questo mi sembra uno scenario tenendo presente che anche se si va a votare così presto non è prestissimo e quindi noi avremo un governo balneare col quale nel momento in cui andremo a porre temi centrali il governo balneare ci diceva ma noi che possiamo fare, siamo ordinari in amministrazione, quindi se tutto va nel migliore dei modi, tecnico, politico, balneare nuove elezioni, noi avremo un interlocutore col quale potremmo parlare non prima della fine dell'anno, cioè questo è lo scenario sul quale il paese si sta incamminando.